Abbiamo approvato un protocollo di intesa con la provincia che mette a disposizione per 33 anni l'intera area di proprietà della provincia a disposizione di tutti i servizi che devono nascere e quelli che ci sono già lì nell'area di Pian del Brusco, che è un area che abbraccia 5-6 comuni per circa 50.000 abitanti. Prevede il potenziamento del nido da 120 posti a 180, 60 posti in più, quindi l'ampliamento. Le aule interdisciplinari, 8 aule in più per quelli che riguardano la scuola media. Prevede il raddoppio della piscina, è previsto un campo per l'atletica, campo di calcio di natura sovracomunale programmato insieme alla provincia che ci consente di attivare le risorse che ci sono a disposizione dalle norme europee, nazionali, regionali. Dove è nata la necessità di ampliare queste strutture? Quella è un area che ha più di 50.000 persone residenti, poi vengono in piscina anche dai comuni confinanti e anche dell'Emilia Romagna. Sono oltre 4.000 persone che vanno in piscina, quindi c'è la necessità di ampliarla. La scuola media è in crescita, quello in territorio è tutto in crescita. Il nido, sono 120 bambini che consente quel nido che è aperto dalle 7 del mattino alle 7 del sera di lavorare, se ha la fortuna, marito e moglie. Quindi un potenziamento per altri 60 posti perché cresce quel territorio, perché c'è lavoro, ci sono circa 70-80.000 metri di cappannoni nuovi per centinaia di posti di lavoro nuovi e quindi deve avere i servizi. Poi abbiamo approvato nella giunta comunale di Vallefoglia una ciclopedonale con la provincia, la regione, per realizzare oltre i 20 chilometri di piste ciclopedonali che abbiamo già a Vallefoglia, circa altri 5 chilometri di piste ciclopedonali che dovremmo curare l'acquisizione dell'area, realizzarle e poi gestirle, farle funzionare come tutte le altre. Quindi un messaggio turistico, ambientale, culturale e importante di benessere della comunità, dei cittadini di quella vallata. Tempistiche per la riqualifica di quella zona, quella di Pian del Bruscolo? La tempistica, cerchiamo di concorre alle opportunità finanziarie che l'Europa ha messo a disposizione che sono uniche nel contesto nazionale. Speriamo che finisca ieri l'altro e non domani la guerra, si possa ritornare a una situazione di normalità e quindi avere le risorse per potenziare tutti questi servizi.